e in corsa è anche Virginia Raggi, la candidata dei 5 Stelle, che attacca nel PD. Avete messo in atto una macchina del fango per delegittimarci. Il riferimento è all'accusa del controllo delle mail dei parlamentari da parte di Casaleggio. Pura fantasia, una storia montata, la replica dal blog. E Stefano Esposito, PD ribatte. Il problema per i 5 Stelle non è chiedere, ma fare chiarezza. E sulle amministrative, Di Maio dice, noi corriamo per vincere. E poi il commento sulle primarie del PD. È logico che non va a votare più nessuno, se vincono sempre gli uomini di Renzi. A Trieste addirittura a me risulta che abbiano messo due renziani per evitare che perdesse un renziano. È chiaro che se le persone che sponsorizza Renzi vincono sempre alle primarie, i cittadini non vanno più a votare alle primarie. Fermo restando che questa volta dobbiamo ancora aspettare lo scorporo del voto cinese e del voto Rom a Roma.